Carissime Cristina e Gigliola, avrei tanto voluto condividere con voi questa magnifica esperienza ma anche se non sono lì, il mio cuore è con voi ed ho pensato di fare questo video per farvi sentire tutto il mio sostegno il mio e non solo Ragazzi pronti? Uno, due, tre Corte Italia! Allora, domani tutti sintonizzati su Skype per fare il tifo per la coppia italiana Michela e Davide e il 19 sempre su Skype alle ore 16 per seguire il gruppo composto da Emanuele, Riccardo, Davide, Antonello e Paolo Forza ragazzi, sono con voi!